Cari amici di dronezine, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi vedremo come installare l'altoparlante sul DJI Mavik 2 Enterprise. Per prima cosa occorre rimuovere lo sportellino superiore. Dopodiché infilare le viti negli appositi alloggiamenti del corpo del Mavik e infine stringere le viti senza esagerare. Lanciando l'applicazione DJI Pilot è possibile registrare un messaggio oppure inviarne uno già pre-registrato. Non è possibile inviare un messaggio in broadcast in tempo reale. La durata massima del messaggio registrato sarà di 60 secondi. La durata massima del mercato fattile. Grazie a tutti